Grazie, sono molto contenta di essere qui, un palcoscenico importante, un'iniziativa molto importante e sono molto felice anche di vedere così tanti ragazzi, così tanti bambini. Sono anche mamma di un bambino di due anni, per cui per me tutto ciò che riguarda l'educazione è veramente molto importante, quindi dobbiamo investire molto e sono molto felice di vedere anche tantissime nazionalità e soprattutto in un momento così delicato e difficile attualmente nel mondo è molto importante continuare a fare musica, cultura, creare il bello e portare il bello in questo mondo.